Uomini e donne news, la dedica di Lorenzo per Sara. Dopo l'esterna di Sara a Fifella con Lorenzo Riccardi, lui pubblica un messaggio particolare su Instagram. Anche quando lui si è dichiarato a sorpresa per Milu Faradati, in pochi hanno avuto dubbi, che in ogni caso a Lorenzo Riccardi interessasse anche, se non più, Sara a Fifella. E infatti le cose sono molto cambiate durante le ultime registrazioni, quelle che vedremo in onda nel corso delle prossime puntate. Non solo il bel corteggiatore di origini pugliesi è tornato a uscire con la bella Sara, ma a quanto pare, come dimostra una recente dedica su Instagram, è sempre più preso da lei. Uomini e donne news, la decisione controversa di Lorenzo Riccardi. Il triangolo Sara a Fifella, Lorenzo Riccardi, Milu Faradati sembrava terminato definitivamente con la decisione del corteggiatore di dichiarasi per quest'ultima. Tuttavia l'interesse di lui per Sara è nuovamente emerso nell'ultima puntata, al punto che la Hadati, arrabbiata, ha deciso di non portarlo in esterna. L'ha portato invece Sara. I due si sono visti in uno studio vuoto, entrambi emozionati, con lei che ha confessato di aver paura nel fidarsi di lui e il ragazzo visibilmente commosso, al punto che poi l'ha raggiunta di nuovo. Grazie. Grazie. Grazie.